Non è possibile considerare la natura come qualcosa di separato dall'uomo. È giunto il momento di promuovere un'ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali senza asservirsi ai singoli egoismi e agli interessi economici. Parte da questo convincimento la seconda enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, pubblicata oggi e presentata nell'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano. Il documento prende il titolo dall'invocazione di San Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature, si suddivide in sei capitoli e si conclude con due preghiere per la salvaguardia del creato. Il pontefice, affrontando una vasta varietà di tematiche, rimarca l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, ribadendo che nel mondo tutto è intimamente connesso. È dunque importante che l'essere umano si domandi cosa vuole lasciare alle future generazioni, riscoprendo il valore proprio di ogni creatura, ricercando altri modi di intendere l'economia e il progresso e promuovendo dibattiti sinceri e onesti. I mutamenti climatici, la questione dell'acqua e la tutela delle biodiversità sono questioni che non possono più essere rimandate e i paesi ricchi devono riconoscere di aver accumulato un vero e proprio debito ecologico, un disequilibrio nella creazione divina le cui conseguenze ricadono soprattutto sulle spalle dei paesi poveri. Papa Bergoglio suggerisce così semplici gesti quotidiani per spezzare la logica della violenza, dello sfruttamento e dell'egoismo, condanna le nuove forme di potere che derivano dalla tecnologia e richiama la responsabilità della comunità internazionale perché l'ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente.